Grazie all'intervento della Fondazione Banco Napoli abbiamo avviato questo progetto di integrazione con la scherma all'Istituto Domenico Martuscelli, dove operiamo con il club schermistico partenopeo, proprio per un'idea nata da uno stimolo di attività che comunque noi abbiamo avviato già da tempo e ci siamo detti perché no, visto che funzionava molto bene, lavorare in maniera più strutturata, integrando tutte le disabilità, quindi sia quelle sensoriali che quelle motorie, con i normodotati che lavorano insieme. Più scherma meno schermi è il progetto di integrazione sociale promosso dal club schermistico partenopeo che nasce per favorire attraverso lo sport la piena integrazione tra soggetti normodotati e diversamente abili. Presentata questa mattina in sala giunta, la presenza tra gli altri dell'assessore allo sport Ciro Borriello, l'iniziativa mira a creare un polo di allenamento integrato di scherma olimpica, paralimpica e non vedenti e dar vita ad una competizione a squadra innovativa nel segno della più completa integrazione sociale e sportiva. Sono un professore associato alla Federico II e faccio anche scherma a livello abbastanza elevato e sono in nazionale, insomma sono tre gare, le ultime tre che sono state particolarmente importanti per questo percorso a Tokyo, due bronzi onoro, insomma inaspettati e adesso vediamo che succede nelle prossime due gare che saranno San Paolo il mese prossimo, Corona permettendo, e l'Europeo a maggio. Questo progetto secondo me è bellissimo, noi lo attuiamo già i mercoledì tirando con i non vedenti, con gli amputati e così via, quindi per me insomma è un modo di integrazione, un mondo di integrazione e anche un modo per sentire sensi che magari non ricordiamo di avere o non di avere così, diciamo, predominanti. Dopo le universiadi abbiamo un calendario molto fitto, molto nutrito di impegni sportivi in città, di valore internazionale, di valore nazionale, per cui insomma quello che ci ha lasciato l'universiadi è un patrimonio da sfruttare e lo stiamo facendo. Oggi insomma presentiamo un bel progetto di integrazione attraverso la scherma, quindi è una cosa molto bella, bisogna lavorare di più soprattutto nel mondo della disabilità, lo stiamo facendo, però come dire c'è sempre qualcosa in più da fare, questo è lo sforzo che chiediamo agli sportivi napoletani, l'amministrazione ci sta, vuole esserci, vuole mettere a disposizione il proprio patrimonio di impiantistica appunto per queste persone, per questi atleti che hanno bisogno e soprattutto devono fare sport.